venerdì la professoressa elenia boscolo firi e la professoressa cecilia guidotti dell'allora secondo circolo oggi sottomarina nord sono state invitate a un prestigioso evento dell'università di padova dipartimento di ingegneria dell'informazione con il professore ordinario di robotica intelligente la dottoranda in robotica educativa laura cesaro e l'equip formativa del veneto l'evento le du robotics camp winter edition è di rilievo in quanto solo poche scuole possono accedervi 5 in tutto il veneto la professoressa cecilia guidotti animatore digitale ha presentato un'attività basata sulla progettazione di un mulino realizzata con i ragazzi di terza a e b quest'anno il viaggio scolastico avrà come meta la francia si è pensato quindi di collegare lo studio della lingua alle bellezze francesi partendo dal famoso mulino forachie l'attività presentata collega a tutto tondo tecnologia matematica scienze e fisica e ingegneria si tratta quindi di una vera e propria attività trasversale stem la professoressa elenia fieri ha concluso l'evento con i relatori presentando il progetto d'istituto dell'allora chioggia 2 un tuffo nelle stem per dimostrare la traversalità del lavoro svolto dall'istituto e l'inserimento di percorsi di robotica nei programmi scolastici a partire dalla scuola per l'infanzia con lo scopo di avvicinare le studentesse alle discipline tecnico-scientifiche vista la forbice che esiste tra la scelta di indirizzi tecnico-scientifici tra maschi e femmine elenia fieri riconosce che tutto ciò non sarebbe possibile se la professoressa guidotti non facesse formazione e opera di coinvolgimento nei confronti degli altri docenti dell'istituto che accolgono con piacere i nuovi stimoli per tali attività l'istituto sottomarina nord ha ricevuto una menzione speciale il lavoro che stanno ormai portando avanti da anni ha dato all'istituto un'occasione speciale che pochi istituti hanno l'opportunità di ottenere SD Auto informa della novità per il 2023 la revisione dei carrelli in sede si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg 01 e 02 di carrelli per imbarcazioni per moto per auto roulotte trailer per il trasporto cavalli carrelli tenda carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg potete contattare sd auto per qualsiasi informazione o chiarimento